Beh sì, io non me l'aspettavo neanche io perché comunque in settimana il mister aveva fatto altro tipo di scelta però poi quando ho detto la formazione ho visto che ero in campo, da una parte ero contento e ho cercato di dare il meglio come ho sempre e spero di aver fatto. Beh io sì, credo di sì, lì a Macerata ho avuto più spazio, forse anche perché il mister che avevo mi conosceva un po' di più rispetto al mister di oggi sì, io speravo pure quest'anno di ricavarmi uno spazio in più rispetto a quello che sto avendo però comunque davanti ho Ivan, Caidi, Sales che comunque è gente un po' più esperta e grande di me quindi faccio fatica. Beh io penso che nessuno lo accetterebbe però se dobbiamo pensare a gennaio è presto perché comunque mancano ancora altre due partite finiranno quelle due partite e poi vediamo il da farsi, anche se io qui a Teramo mi trovo benissimo, anche se ho poco spazio. Io che vivo lo spogliatoio, i ragazzi e ci sono dentro, io credo che noi dal primo minuto all'ultimo diamo il massimo poi se siamo in grado anche di recuperare le partite o andando sotto o come è successo anche sabato che comunque è stata una bella batosta prendere il pareggio e reagire subito, io credo che non è facile però noi ce l'abbiamo.